Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi di tutela ambientale e contrasto all'abusivismo commerciale, ha sequestrato a Terzigno un opificio tessile e un'autofficina, in entrambi i casi completamente abusivi e sconosciuti al fisco. Nel corso del primo intervento i finanziari della compagnia di Ottaviano, seguendo un flusso di continuo andirivieni di auto e persone, hanno individuato un immobile all'interno del quale è stato riscontrato lo svolgimento, in maniera completamente irregolare, di un'attività di riparazione auto allestita con tutte le attrezzature necessarie. All'interno dell'autofficina sono stati sequestrati diversi macchinari, tre tonnellate di rifiuti e 500 litri di olio esausto. Denunciato all'autorità giudiziaria, oltre che sanzionato amministrativamente per violazioni al testo unico in materia ambientale, il gestore rifatto dell'attività, un 54enne del luogo. Nel corso di un secondo intervento la stessa compagnia di Ottaviano ha sequestrato un opificio tessile clandestino, all'interno del quale sono stati sorpresi tra l'altro tre lavoratori in nero. Sequestrato l'intero immobile di circa 200 metri quadri, numerose attrezzature professionali, oltre 120.000 capi di abbigliamento neutri, ancora senza marchio, nonché circa 90.000 accessori tra cartellini, stampelle e bottoni, che sarebbero stati utilizzati per completare e rifinire i prodotti semilavorati per l'emissione sul mercato. Una volta accertata la mancanza della prevista documentazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, le fiamme gialle hanno denunciato un 47enne di origine cinese per reati ambientali, nonché in materia di sicurezza sul lavoro. Sono in corso approfondimenti di natura fiscale.